Ieri sera durante l'ennesimo servizio prelustrativo in relazione alla pandemia Covid-19 siamo stai attirati da delle grida di persone che chiedevano aiuto. Subito siamo scesi, ci siamo diretti dove indichiamano le persone e abbiamo notato una donna che aveva in braccio un bambino mai inerme con colore cianotico. Abbiamo capito la gravità del fatto e abbiamo iniziato a fare una respirazione bocca a bocca delle manovre. Successivamente abbiamo portato immediatamente tramite l'autovettura militare e presso l'ospedale di Polistra dove viene affidato nelle cure sanitarie. Fortunatamente il bambino si è salvato. Visto il particolare periodo, avete adottato precauzioni per il coronavirus? Di fronte alla vita di un bambino la nostra è passata in secondo piano in quel momento. Grazie. 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 Grazie.